Sa per iniziare una nuova stagione turistica, i Maronti come si presenteranno quest'anno? Ma io mi auguro che si presenteranno come si sono presenti l'anno scorso. Tutti sanno che abbiamo avuto un'ottima estate l'anno scorso, grazie anche ai interventi importanti e risolutivi che ha fatto questa amministrazione. Oggi c'è una spiaggia che è bellissima e questo la diciamo anche in particolare a quelli che hanno gufato per il passato su questa grande operazione del ripascimento che fu fatta agli inizi degli anni 2000 e che vediamo ancora oggi sta dando i suoi frutti perché c'è una spiaggia che è incantevole, è praticamente quasi costante fino a Dopolo del Vittorio e è leggermente in sofferenza verso le fumarole, però voglio dire non si può avere tutto dalla vita. Ci auguriamo che rimanga in questa straordinaria condizione fino a maggio, fino a fine maggio quando ecco diminuisce moltissimo la probabilità che possa venire qualche tempesta o da est o da ovest che possa alterare significativamente la quantità di arenile a est o a ovest a seconda delle correnti da dove provengano. Per quanto riguarda la qualità del mare, noi abbiamo fatto una riunione con gli operatori turistici che si sono resi disponibili insieme all'amministrazione per risolvere questo grosso problema che noi abbiamo del refluo di nitroidi che arriva ai Maronti carico di argilla e che da quest'acqua molto carica di terriccio rende la qualità del mare non eccezionale nel senso che la rende torbida, la rende schiumosa ma certamente inquinata perché il terriccio ovviamente non è inquinato. Stiamo pensando anche al futuro con un intervento strutturale molto più importante che purtroppo ci hanno detto per il quale occorrono centinaia di migliaia di euro però voglio dire, ognuno di noi farà la propria parte quest'anno porteremo avanti ancora un intervento tampone di emergenza speriamo di avere un bellissimo mare